salve a tutti amici di youtube benvenuti o bentornati sul mio canale e torno a parlarvi di telefonia telefonia mobile in questo caso non è per parlarvi di un'offerta di telefonia mobile diciamo che è un po' un appendice al video in cui vi ho parlato delle pagelle 2020 dei operatori di telefonia mobile virtuale e non avevo approfondito questa notizia per questo operatore perché volevo approfondire dal punto di vista legale come alcuni di voi ben sanno o mobile la low cost di vodafone l'anno scorso nel 2020 è stata vittima di un attacco hacker questo attacco hacker ha permesso a questi hacker di prelevare alcuni dati sensibili dei clienti o mobile nel caso specifico i dati sensibili i dati personali sarebbero l'anagrafica dei clienti il numero di telefono associato al cliente e il numero di seriale questo è un gran danno per i clienti o mobile lo mobile ha mandato un messaggio in cui ha spiegato quello che è successo a tutti i suoi clienti invitandolo se volevano i clienti a sostituire presso un centro mobile la sim in dotazione questo perché? perché si potrebbe essere vittima di un attacco di sim swipe scusate che cos'è il sim swipe è quello di effettuare un cambio sim in maniera diciamo fraudolenta nell'ambito delle truffe così viene identificato sono tante le i racconti di truffe di questo tipo ma non voglio parlare di questo tipo di truffa ma bensì focalizzarmi su appunto il trafugamento di dati personali appunto dei clienti o mobile da parte di questi hacker la cosa più importante qual è? sono già cominciati a emergere nell'ambito social le domande ma sarebbe legittima la richiesta di un risarcimento danni a o mobile da parte dei clienti? la risposta è nì ho tardato a realizzare questo video perché come vi ho detto ho voluto vedete quello che è l'aspetto legale e grazie al canale dell'avvocato Angelo Greco di cui vi lascio il link in descrizione Angelo Greco in un video pubblicato proprio recentissimamente ha chiarito un po' con la situazione che cerco di sintetizzarvi d'accordo? un risarcimento sarebbe legittimo solo se si configurano determinate condizioni la prima condizione che si deve configurare è quella in cui o mobile dimostri che non è stato fatto tutto il possibile per arginare quello che è un attacco hacker quindi dimostrare che praticamente o mobile già era vulnerabile nel momento in cui è stato effettuato l'attacco hacker quindi diciamo non aver ottemperato a tutte quelle che sono le procedure di tutela dei dati personali e come proteggere i dati personali quindi dovrebbe dimostrare che non ha fatto tutto quello che era possibile per tutelare i dati personali d'accordo? quindi dovrebbe ammettere di aver avuto diciamo una colpa una corresponsabilità indiretta nel non aver gestito come avrebbe dovuto i dati personali d'accordo? questa è la prima la seconda condizione che si dovrebbe configurare è quella del danno personale del cliente mi spiego meglio non basta solamente averti a fugato dei dati ma l'utilizzo che ne è stato fatto quindi se un cliente o mobile a cui sono stati rubati i dati quindi è stato vittima di questo attacco sono stati utilizzati i dati di questi clienti per fare qualcosa di fraudolento in questo caso il cliente può richiedere un risarcimento per questa condizione che si è creata perché appunto se non si fosse effettuato questa se non si fosse generata questa condizione lui non sarebbe stato vittima di a suo modo di una truffa bisogna anche dire che o mobile ha immediatamente come ho detto cercato di metterci una pezza nel senso che ha invitato i clienti che lo vogliono a sostituire la propria sim perché sostituire la sim? perché appunto i dati che sono stati trafugati sono numero di telefono e seriale io cosa vi consiglio? beh innanzitutto c'è anche da chiedere una cosa come ho detto questi sono i dati anagrafica, numero di telefono e seriale non sono stati rubati dati inerenti ai sistemi di pagamento quindi quando avete effettuato la ricarica del credito che metodologia avete utilizzato, che carta oppure account Paypal niente di tutto quanto questo cosa mi viene da consigliarvi? beh se utilizzate il numero mobile come un numero principale quindi per la vita di tutti i giorni nello smartphone insomma io vi consiglio fate il cambio della sim d'accordo? perché? perché potreste andare incontro potreste essere soggetti a quel tipo di tuffa che vi ho raccontato del cambio della sim, della sweep sim se invece utilizzate o mobile all'interno del tablet e lo utilizzate solamente per utilizzo dati, navigazione dal tablet quindi non fate telefonate, non fate traffico utilizzo anche collegato a quelli che sono i sistemi bancari e altre cose, beh io vi posso dire non andate immediatamente in un centro o mobile autorizzato per fare il cambio della sim preoccupatevi se non avete più segnale sulla sim sim non registrata se vi compare questo tipo di messaggio nessuna connessione o altro perché in quel caso sì, vi hanno preso e diciamo hackerato la sim hackerato, hanno preso, hanno preso i vostri dati hanno fatto la richiesta di portabilità verso altro operatore hanno utilizzato la vostra identità, il vostro numero di telefono quindi in quel caso cominciate a preoccuparvi, ad allarmarvi fate il cambio della sim se utilizzate il numero mobile come un numero principale se invece lo utilizzate come numero secondario soprattutto in un tablet o in un cellulare però diciamo fate poche chiamate oppure utilizzate solamente il telefono per cose non particolarmente importanti quindi un'utenza secondaria non andate immediatamente nel panico ribadendo anche un altro concetto che tra i dati non sono neanche stati trafugati i dati inerenti al traffico sia voce che internet quindi diciamo che la privacy è stata bucata sì, però in parte dopodiché sì, sono cose che nel 2020-2021 non dovrebbero capitare con tutti i livelli di sicurezza che ci sono però purtroppo capitano e quello che si può fare è solo metterci una pezza, un rimedio quindi è possibile ricevere un risarcimento da O-Mobile per questo problema? la risposta è no si deve configurare si devono configurare quelle condizioni che vi ho detto ho fatto questo video un po' di fretta e furia cioè nel senso che ho voluto approfondire però lo sto facendo particolarmente di getto perché ci sono un po' di cose da fare oggi e quindi sto utilizzando un tempo morto per realizzare questo video io vi ringrazio per aver visto questo video vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace e soprattutto condividerlo con chi pensate che possa essere utile amici, parenti che sono utenti O-Mobile e vi invito soprattutto ad andare a visitare il canale YouTube dell'avvocato Angelo Greco là trovate tutti quanti gli approfondimenti trovate sentenze, trovate riferimenti legali per quella che è la situazione che è specifica della violazione dei dati personali di O-Mobile da parte di questi hacker quindi numero di sentenze, riferimenti legali ma Angelo Greco lo fa in una maniera molto smart d'accordo? in una maniera molto molto semplice è proprio quello che è il motto del suo canale quello di essere semplice una comunicazione semplice per portare la legge alla conoscenza di tutti io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo ciao!